La grande moda made in Puglia torna ad essere protagonista nel Salento grazie al Lecce Fashion Week, l'evento storico del territorio giunto alla ventunesima edizione. Un'occasione unica per mettere in vetrina l'arte sartoriale della nostra terra, arricchita da capi d'abbigliamento di ottima fattura. Non a caso è stata scelta una location particolare, la distilleria De Giorgi di San Cesario e le Porte di Lecce, lì dove la creatività e l'imprenditorialità si mescolano meravigliosamente dando vita all'anisetta, presidio della tradizione licoristica italiana creato 90 anni fa dall'omonima azienda Salentina. La distilleria compare perfino in una scena del film cult Casablanca, protagonisti Anfrey Bogart e Ingrid Bergman. Una serata in grande stile che sarebbe piaciuta enormemente a Elisabetta Bedori, ideatrice e anima di un evento di grande livello artistico che più di ogni altro ha saputo negli ultimi anni valorizzare le produzioni artigianali pugliesi e non solo in materia di moda, aiutando decine di giovani stilisti in erba a valorizzare la propria creatività e consentendo ad altri più avanti con la consapevolezza del proprio talento a spiecare definitivamente il volo. Novità di quest'anno, la collocazione di Lecce Fashion Week all'interno della prima settimana della moda diffusa delineata da Yes, We Are Apulian Runway Experience, percorso intrapreso da Ciena Puglia alla scoperta delle abilità e professionalità Un evento pensato per offrire gratuitamente alle aziende selezionate l'opportunità di manifestare le proprie capacità in un momento critico ma di ripresa. La rassegna è stata dedicata al viaggio. D'altronde la Puglia, meta turistica dei sogni, non offre soltanto bellezza di storia, natura e paesaggi, ma anche intelligenze capaci di ispirarsi a quella bellezza per tradurla in manufatti di pregio. E la distilleria dei Giorgi è stata capace di regalare grandi emozioni anche ai buyers presenti all'evento, giunti da ogni parte del mondo e che hanno avuto la possibilità pure di visitare alcuni selezionati laboratori produttivi.